L'Everte è un nef numero della Ush di Ladins. Quest'numer 33 è verce con la neve che le ruole all'Oufe in città del nostro aval. E con la scommenzativa della provincia di Busanna sostendela l'Eltra Dura Ladina. Dell'attualità è concebito con l'argomento che ha fatto troppo risunerci di S. che reverda i segni della presenza della bestia Salvera in città di sviluppare lezze del nostro regione. Zoninando con le informazioni del coordinatore del settore Green Carnivores della provincia di Trent. E con il concorso di idee per giochi e artisti che vengono a metter la prova su un quest'em. In Città, ai chinesi di Aos, listate premiate persone della provincia di Busanna che si adatte giù del camp sociale, culturale e ambientale. A Selva, di settembre, l'è in programma l'edizione numero 8 della scommenzativa che fa screscere le amme culturali anterduci la Dins. L'importante cedean sporce una occasione forna di riflessione e comunicazione dell'evento sportifiche dove entra la manifestazione di Duta Laval e di Siazint. Tempezzo, da una settemana dei concerti che ha veduto l'esibizione del Mujon dei Musegas, e in domenica l'è la defiletta dei ducchi che ha tolto per il Gran Finale. Ence te fodome il love a Copanabestia, il patron palese si ha delusione. Te la piatese fascia la segra di Yomendamont, una delle feste più importanti dell'istà. La messa che stanno l'è stata ufficiera dal Monsignor Lauro Tisi. La sera è venta a Navalge con l'alpinista Reinhold Messner, che ha portadante la storia dell'avventura dell'home sui crepes. Lo spion del Bosco, Michele Chiocchetti, spiega i mudamenti dell'approvazione della Convenzione Antercomunz, e resone di desvalive saspecie dei nostri territori. Elisa Vian conta del corso che la indrezza te fascia per imparare tecniche di memoria e apprendimento. L'Associazione La Voce delle Donne organizza una bella esposizione di opere di Elis a Pozza. Ence che stanno il drop del Chianton de Moena metto a girare tra i dis di musica, maniere e artesanat. La Dalbon Garatala, edizione numero 6 della festa te fucciada. Sempre più femmine seduta alla Valat, outperta la celebrazione di mezza-aust per la benedizione della Manes. Protagonista del concorso del Retrat, che stouta l'inafotografia dei conscrici del 1930. Neves della squadra del Presidente Ghetta aspettando il campionato di prima categoria. Gran buon esit per l'edizione 2017 della storica marcia che passa a fare i Chiantons più via di Moena. Sulla Ush di Ladin, su ogni vendere, potete trovare la Neves da tutta la Ladinia. Per info e abbonamenti potete viaggiare alla redazione di Fascia su Stradona St. Jean. Telefon 0462 745 45 Mail fascia-laush.it Il Sfo Interladin le ente online sul sito www.laush.it Ote la bottega e il Sfo è seduta alla Valat. Grazie a tutti. Grazie a tutti.